Un'attivazione unica, grandissima, sono molto felice. Il mio primo gol tra professionisti, in uno stadio così importante, contro una grande squadra. Sono molto contento. Ci tenevamo a fare bene oggi, era una partita complicata, ma nel secondo tempo abbiamo quasi anche dominato più di loro. E quindi è andata bene, dai. È un punto che ci dà coraggio. Con questo atteggiamento possiamo giocarci con chiunque. Sappiamo che contro la Sampdoria sarà difficile, ma siamo pronti a fare una grande partita. Spero di fare ancora meglio, dare il mio contributo il più possibile e di divertirmi tanto qua all'Udinese.